Io sono Unitelma, la nuova iniziativa multimediale interamente dedicata agli studenti e agli ex studenti di Unitelma Sapienza, un modo per raccontarsi e raccontare la propria esperienza presso il nostro Ateneo. Quest'oggi ne parliamo con Maria Acciarito. Ciao Maria. Ciao, buongiorno, buongiorno. E allora, perché hai scelto Unitelma Sapienza? Allora, sì, la mia scelta è stata dettata innanzitutto dalla praticità. Io ho 39 anni, sono sposata con un bambino e lavoro presso un ente pubblico e mi sposto per venire a Roma. La mia sede di lavoro è a Roma, quindi io ho circa tre ore di viaggio giornaliere per poter raggiungere il posto di lavoro e devo dire che un'altra università che non fosse telematica non sarebbe potuta andare bene per me, insomma, per gli impegni lavorativi di famiglia, di mamma e quindi diciamo che Unitelma mi ha dato la possibilità di poter intraprendere questo percorso e tra parentesi questo sogno che io avevo nel cassetto, perché insomma, andando avanti con l'età non è facile da raggiungere, quindi è necessario, secondo me è importante avere un'università a portata di mano, ecco, per intenderci, ovvero io mi ricordo che preparavo gli esami ascoltando in MP3, quindi anziché mettere la musica sul treno per arrivare a Roma oppure per tornare a casa, ascoltavo le lezioni, insomma, ecco. Ecco, parlando proprio di tempo, che è una risorsa molto preziosa, attraverso la quale tu organizzi la tua giornata di madre e di studentessa, come si svolgono le lezioni e le attività didattiche e come riesci a coniugare tutto questo appunto nell'ambito della tua giornata lavorativa e familiare? Appunto, come ti dicevo, il fatto di avere l'app sul cellulare è una praticità unica perché non devi stare lì necessariamente con un portatile, con un pc, ma scaricare in MP3. Io inizialmente non avevo neanche l'app, tranquillamente mi scaricavo da casa e me le inviavo sul cellulare, poi sono passata all'app, quindi questa è una praticità unica, perché ti ripeto, stando in treno, in qualsiasi volta aspettavo mio figlio che faceva gli allenamenti di calcio e nel frattempo in macchina mi sentivo le lezioni, insomma, questa è una praticità e soprattutto ti permette nella fase, diciamo, anche iniziale di approccio di studio. Io mi ricordo che le prime volte cominciavo a leggere e dopo dieci minuti non ricordavo nulla, invece con le lezioni, anche facendo le cose a casa, comunque hai un continuo, diciamo, inoltre di informazioni che sembra che non le stai ascoltando, ma ti entrano, insomma, per capirci. A me questo è quello che mi ha, diciamo, mi ha aiutato molto. Questo lo devo dire con molta sincerità, sì, al di là poi di concentrare delle ore molto più, diciamo, ecco, in appunti, in attiviti che si potevano svolgere, in web seminar che necessariamente li facevo da casa perché comunque magari prendevo appunti o quant'altro. Però la cosa delle, ecco, nelle lezioni mi è stata molto utile. Poi è normale che a ridosso degli esami si concentrava, ovvero il classico studio a casa su una scrivania, questo sì. Ecco, il tipo di corso che hai studiato lo consiglieresti oppure no? Sì, a me, io devo dire, io ho scelto scienze dell'amministrazione e devo dire, sì, per me che lavoro in una pubblica amministrazione, io ho molte, diciamo, mi si sono chiariti molti orizzonti, ecco, per intenderci, perché quando io vengo da una mente privata, comunque sono 12 anni che lavoro in una pubblica amministrazione, alcune cose sono incomprensibili, perché, ma perché si fa così? Quindi ti fai delle domande, invece devo dire che studiandole alcune cose ti rendi conto da dove vengono, cioè a me è servito molto, devo dire. Bene, e che cos'è quindi in poche parole per te Unitelma Sapienza? Ma Unitelma per me, ti ripeto, mi ha fatto raggiungere il mio sogno, quindi io sono molto legata perché questo percorso di studi mi ha fatto conoscere anche tanti amici, tante persone con le quali, ecco, abbiamo, io successivamente al corso di laurea triennale ho conseguito un master di primo livello e a settembre mi sono iscritta alla magistrale, quindi di management, e quindi questo percorso, diciamo, è stato supportato da molti amici, da colleghi che oggi sono amici, quindi sì, è stato, diciamo, come una famiglia, ecco, per intenderci. Poi devo dire che sì, anche a livello di segreteria sono sempre molto attenti a sentire le problematiche delle persone, io mi ricordo che a ridosso della tesi avevo dei problemi, quindi anche la crisi, invece poi chiamavo, dice, no, ma stai tranquilla, puoi fare in questo modo, perché, insomma, poi il panico c'è, insomma, nonostante non siamo più bambini o ragazzi, diciamo, da università, però comunque, insomma, l'ansia viene sempre. Devo dire che io mi sono trovata bene, la consiglierei, ecco, senza dubbio, questo sicuramente. Un'ultima domanda relativa un po' ai giorni che stiamo vivendo, la pandemia e tutto quello che è accaduto da marzo in poi, come hai vissuto questo periodo nell'ambito di quelle che sono state le iniziative che l'università ha messo in campo, iniziative multimediali di ampio respiro, iniziative rivolte agli studenti come io sono Unitelma e, in generale, se l'Ateneo, appunto, ti è sembrato vicino agli studenti o meno. Sì, io devo dire che in piena pandemia io ho discusso il master in digitale, insomma, da casa, quindi devo dire che un po' mi spaventava perché io ho sempre sostenuto esami, ho discusso la tesi in sede, insomma, e devo dire, insomma, che mi piace, preferisco, non la preferisco, cioè, la preferisco nel senso come contatto umano, però devo dire che io, ti ripeto, ho discusso il master, ho fatto il mio primo esame della magistrale e devo dire che, insomma, c'è stata sempre l'attenzione da parte di Unitelma a mandare nei tempi i link, quindi non vai nel panico perché dici oddio i link, hai modo, diciamo, di provare anche il giorno prima se la connessione va, perché sembrano, diciamo, delle cose scontate, ma in realtà non lo sono perché per me che sì, ho un approccio col computer discreto, ci lavoro, però non sono un informatico, quindi il panico viene, invece Unitelma, insomma, sempre nei tempi ha mandato il link per la discussione, io quindi ho fatto le prove, anche tramite i professori sono stati sempre raggiungibili via mail, quindi non... io ho avuto una buona impressione, questo sì, sì. Ecco, allora vorrei ricordare a tutti coloro i quali volessero raccontarci la propria esperienza presso Unitelma, come Maria Ciarito, che possono scriverci a ufficio stampa, chioccio l'unitelmasapienza.it e ringrazio, ovviamente, Maria. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a voi.